Due camion carichi di uva si sono scontrati frontalmente ieri pomeriggio mentre percorrevano la provinciale 18, la strada che collega San Ferdinando di Puglia e la vicina città di Canosa di Puglia. Ancora da accertare le cause dell'incidente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i mezzi pesanti si sono toccati nel punto più stretto della careggiata per poi ribaltarsi in una scarpata, non ci sono gravi feriti, coinvolte nell'incidente anche una lancia libre rimasta schiacciata dal carico d'uva finito sull'asfalto e una lancia Y semidistrutta, feriti i conducenti che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti sanitari del 118 e agenti della polizia municipale di San Ferdinando, bloccato il traffico per diverse ore che è stato successivamente deviato per altre strade. Grazie. 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 Grazie.